Lombardia in zona arancione, Campania resta rossa, ma scoppia la polemica. Il Governo ha iniziato le trattative con le Regioni sulle regole del nuovo DPCM, a cominciare dalla data dello stop agli spostamenti per i non residenti, in dubbio anche gli orari di apertura ai ristoranti e locali e del coprifuoco nazionale. Il Piemonte passa dalla zona rossa a quell'arancione e le strade di Torino si affollano con veri e propri assembramenti. È bastato che i negozi rialzassero le serrande per vedere le vie del centro cittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. Anche Milano e la Lombardia da oggi sono in zona arancione e anche qui sono tanti milanesi che nel primo giorno di riapertura dei negozi hanno affollato le vie dello shopping per approfittare le ultime offerte del Black Friday e per iniziare a fare qualche regalo in Natale. Anche la Calabria lascia la zona rossa di massime restrizioni anti-Covid. Dall'arancione al giallo passano invece Ligure e Sicilia. L'Italia cambia insomma di nuovo colore. Restano rosse Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania. Arancione, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata e Puglia. Gialle, Veneto, provincia autonoma di Trento, Lazio, Molise e Sardegna. Una scelta che ha fatto esplodere la polemica. Nell'occhio del ciclone, soprattutto la Lombardia, i cui dati epidemiologici non sembrerebbero consentire di rientrare in una zona a basso rischio. Una situazione che a molti ricorda la prima ondata pandemica, quando tutto il paese fu costretto del lockdown, quando invece solo alcune regioni, fra cui proprio la Lombardia, erano veramente a rischio. Il presidente E. Luca ha commentato la scelta di lasciare la campana in zona rossa con un furioso sarcasmo. Apprezzo tuttavia la coerenza del governo. Solo tre giorni per entrare in zona rossa, ancora tre giorni per uscirne, senza spiegare mai nulla. Già nella diretta di venerdì il governatore aveva ribadito il suo dissenso nei confronti degli ultimi provvedimenti. Le zone sono una buffonata, a ribadito più volte. Intanto è ancora acceso il confronto sull'apertura delle scuole. L'amministra Zolina ha annunciato di voler aprire tutte le scuole alla didattica in presenza per il 9 dicembre. In molti, tuttavia, trovano tale apertura insensata pochi giorni prima all'inizio delle vacanze natalizie, ritenendo quindi più opportuno rimandare tutto a gennaio. De Luca, con ordinanza numero 93, ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori alla prima elementare, almeno fino al 7 dicembre. Tuttavia, ha anche disposto screening su base volontaria per l'alunni e famiglie, in vista di una possibile apertura al 9 dicembre. È plausibile, quindi, che il governatore voglia uniformarsi per la scuola a quanto disporrà il governo.